Siracusa Risorse Non siamo fermi in attesa che arrivano i soldi e che pure le proteste dei lavoratori a cui va tutta la solidarietà perché quando non si pigliano stipendi per 5, 6 mesi, 7 mesi, io voglio ricordare che questi lavoratori intanto lavorano a orario ridotto 30 ore settimanali e che il salario medio si aggira attorno a 1000-1100 euro. E il 90% di questi lavoratori sono monoreddito, quindi voi capite che quando per 5, 6 mesi, 7 mesi non si piglia lo stipendio c'è il dramma vero in una casa. La partecipata regola i rapporti con l'ente promotore con un normalissimo contratto commerciale in cui sono previsti gli obblighi, i servizi che dobbiamo garantire e il corrispettivo complessivo che lo stesso ente deve erogare. Ma molto spesso capita, specie in questo periodo, che l'ente è in difficoltà di liquidità, come tutti noi sappiamo, e bisogna fare degli interventi comunque urgenti che sono extra-contrattuali. Bene, noi non ci siamo mai rifiutati di fare questi interventi, avendone la capacità, sperando che tutto questo possa essere una risposta all'utilità della società. Quando si dice che la società costa qualche milione di euro, io mi chiedo, ma se si dovessero fare degli interventi tutti all'esterno, quanto costerebbe?